Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Cominciamo dalla A1 dove per traffico congestionato in direzione Roma ci sono sei chilometri di coda tra Ronco, Bilaccio e Calenzano. Per traffico intenso code a tratti tra Firenze Imprunita e Incisa Reggello. In direzione Bologna per traffico intenso ci sono code a tratti per il bivio della complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla FIPILI rallentamenti per lavori in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna. Per incidenti rallentamenti in entrambe le direzioni tra Interporto Toscano Ovest e Livorno Aurelia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!